Ciao ragazzi, oggi sono qua per ipnotizzarvi, per rendere questo video virale, per far conoscere a tutto il mondo il mio bellissimo libro. E quindi partiamo. Allora, mi ipnotizzerò con questo ciondolo. Allora, seguite il ciondolo, mi raccomando. Seguite il ciondolo e auscultate la mia voce. Allora, è questo bellissimo libro, un libro coinvolgente, è un'avventura straordinaria che vi cataculterà da un emisfero all'altro del nostro pianeta. Guardate i miei occhi, guardatemi negli occhi. Guardate il ciondolo, guardate il ciondolo. I personaggi protagonisti sembrano come di averli lì, accanto a voi, perché sono personaggi vivi e coinvolgenti. E quindi, dopo che questo video sarà stato chiuso da voi, voi andrete subito a condividere questo video grazie alla potenza di questo ciondolo. E condividerete a manetta con tutti i vostri contatti questo video rendendolo virale, facendo conoscere a tutti il mio splendido libro che vi metterò in descrizione, a raggiungimento di uno, due o tre milioni di visualizzazioni. Ecco. E quindi, dopo di che, dopo questo avvenimento, dopo aver condiviso questo video, sarete automaticamente liberati da questa ipnosi. e quindi, adesso andate e divulgate.